Ragazzi, prima di iniziare il video volevo ringraziare Swappi per avermi regalato un iPhone ricondizionato Cos'è un iPhone ricondizionato? È un iPhone nuovo a tutti gli effetti, ma ci sono dei vantaggi Uno, che risparmierete anidite carbonica nell'aria Due, che avrete questo iPhone a prezzi bassissimi Se acquistate un iPhone ricondizionato avete 14 giorni di garanzia Se non siete soddisfatti appunto potrete restituirlo Il mio codice avrete 10€ di sconto e troverete tutto in descrizione e anche il link per acquistarlo Adesso vi farò vedere cosa contiene la scatola Qui c'è la carta che già avevo aperto E qui c'è l'iPhone Questo è l'iPhone, ragazzi Nuovo E sotto c'è il caricatore del telefono Ragazzi, Swappi è la miglior scelta per avere iPhone a prezzi bassi Io ne sono veramente contenta, quindi ve lo consiglio Ehi là, gente, sono Cresi, ma per gli amici sono anche Salvatore Bentornati in un nuovissimo video, ragazzuoli Preparatevi perché sto gridando anche troppo Vabbè, sì che c'è la porta chiusa quindi Alice non mi sente Ma, ebbene sì, gli è arrivato un regalo a sorpresa da un'azienda Ecco che praticamente vabbè vende gli iPhone ricondizionati E gli è arrivato un iPhone 11 Pro Max Ho deciso di spacciarlo come un mio regalo Di conseguenza, ragazzuoli, dato che gli è arrivato oggi Andrò in camera a svegliarla E le regalerò un iPhone 11 Pro Max Vabbè, vi dico che in realtà c'è anche il mio zambino Per averglielo fatto arrivare Però comunque, cioè, non è solo un mio regalo È anche il regalo da questa azienda Swappi E andiamo Ragazzi, questa è la camera Lei sta dormendo Praticamente sono le... Che ora sono? Sono le 20 Le 22.45 Già tardi Cioè, tardi comunque Ed è domenica sera E siamo tornati poco... Cioè, o ieri dal viaggio Quindi, ragazzi Sta dormendo Amore Buongiorno, amore Come va? Tutto bene? E... Sveglia Sveglia Ragazzi, si è svegliata per fortuna Benvenuti in un nuovissimo video di vlog Oggi, ragazzuoli Mangeremo per 24 ore solo patatine E inizierà da ora Fino a domani sera Alice, amore, sei pronta? Non è pronta Detto questo, ragazzuoli Bisogna Dire una bella cosa Cioè, tipo Che le patatine Che mangeremo Non si sa quale sono Ma le mangeremo Le mangeremo E lei Mangierà patatine Allora, sei pronta? No Allora, il tuo regalo È là È qua dentro Qua, ok? Però aprilo Mi raccomando, eh Pronta? No, quella a fianco Quella a fianco No, a fianco ancora L'altro A fianco Questo Però non aprirlo 3, 2, 1 Aprilo Bene 24 ore 24 ore Chiuse in cucina Ragazzi Benvenuti in questa 24 ore Chiuse in cucina Nulla Sarà una bella 24 ore E comunque Va bene Ti apro Stavo scherzando Non era questo Amore Non ti preoccupare Non era questo Non ti preoccupare Va bene, allora Sei pronta a vedere Il vero regalo? No, perché È pure una cavolata Non è una cavolata Ebbene sì Ebbene sì È in questa stanza Cosa può essere? Cosa ti manca a te Amore? Cosa potrebbe mancarti? Una bella Lamborghini Per esempio Un bello Rolex E allora Cosa potrebbe esserci In questa stanza In questo tutto Disordine Dai che ce la puoi fare Dai che ce la puoi fare Cerca Ricordo Hai 20 minuti E ti dico Vale 1400 euro Il tuo regalo Ecco Sta ancora dormendo in piedi Cercalo Veloce 2069 E 60 59 58 57 56 55 54 53 Questo vale 1400 euro Per me sì Bene Abbiamo trovato la regina Dell'ignoranza ragazzoni Yeah Ma vuole veloce Il 30 29 Ecco va a me 28 27 26 25 24 No 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 Allora Acqua 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 Completamente acqua Sei Acqua 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 Fuochino Fuoco 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 Fuochino Fuoco 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 Acqua Completamente acqua 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 fuoco Fuochino Fuochino Fuoco 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 No No Oceano Preciso Fuoco 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 No No, 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 oceano, 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 acqua FUCHINO Eri al FUCHINO, mamma mia Eri al FUCHINO, no, non è questa FUCHINO, FUCHINO FUCHINO FUCHINO, FUCHINO No, FUCHINO, FUCHINO No, FUCHINO, no, no, non sono lei Allora, allora, FUCHINO Mamma mia, quanto è FUCHINO La mano a FUCHINO ti prende Ma come? No, 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 ma ce l'hai davanti No, ma ce l'hai davanti Te lo prendo io, ok? Te lo prendo FUCHINO A FUCHINO A FUCHINO A FUCHINO A FUCHINO No, ma stai scherzando? Sta prendendo tutto tra la scatola giusta C'è solo una scatola lì diversa Eh, l'hai, l'hai notata? Non l'ha notata Non ci credo Ma lei è scema È scema Oh, che cos'è questa cosa? Swappi Swappi, perfetto Bene Bene, bene Che cos'è Swappi? E che cosa c'è qua dentro? Una bella scatola, eh? Una bella scatolina Noto, vero? E che cosa potrebbe esserci in questa scatola? Sei pronta, amore? No Come no? Non sono pronta Sì che sei pronta, amore Sì che sei pronta Allora, sediamoci E vediamo tutto Bene, ok? Ok, pronta, amore Questo qua è il tuo regalo Non sai cosa contiene, vero? No E preparati perché ci sarà una bella sorpresa Allora, innanzitutto Vai e aprilo con calmo, ok? Attenzione, ragazzoni Non è una delle tue scatola Mettilo alto, se no non si vede Vai, tranquilla, amore Vai, c'è un po' di carta dentro Mi facciamo per fare dei video Sto scherza? Allora, vai, vai, vai Sei pronta? Dove devo fidare? Vai, mettilo alto Vai, mettilo alto Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Il tuo nuovo telefono è qui Io ormai non ci casco più Allora, sei pronta? Sì Dai, guarda le tue solite cavolate Due Uno Vai Scarta Un'altra carta Dai Non è vero Non ci casco più Basta È uno scherzo È uno scherzo Attenzione Tre Due Uno Vai No, vabbè No, 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 no È finto È finto Ragazzi 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 Ci siamo Ragazzi Ci siamo Eccolo qua, raga L'iPhone 11 Pro Max Oro Tutto Ma è che È finto È finto Esatto Magari Lei hai ordinato Su Raga iPhone 11 Pro Max Ora Amore Ti dirò di più È tutto tuo Te lo Regalo No, vabbè No, no, raga Ma non ci credo Veramente Te lo giuro Te lo giuro Non mi ringrazio Grazie Ma prima devo accertare che è bello Cioè È un iPhone Devo ispezionarlo Sì, è un iPhone Vero Vero Allora Accendilo Vediamo se va Accendilo Eccola qua Funzione Raga Come ti ho detto Funziona alla perfezione Ma non mi ringrazio Amore Grazie Credici Credici Perché è tutto vero iPhone funzionante al 100% E dica Amore Tutto tuo Te lo meriti Allora 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 Andiamo al dub Te l'hai inviato praticamente un'azienda Swappi E quindi adesso ringrazierai l'azienda E nulla da fare Vabbè La vedete a inizio video la clip Questo è il tuo nuovo telefono amore Tutto Tutto pronto E vi dirò di più se questo video arriva a 15.000 like Cos'è impossibile Io spaccherò il tempo della mia sorella Ma col martello Lo spaccherò E tiene le gallerò Alice ha il suo nuovo telefono raga Ed è super super contenta Mi fa molto piacere È oro E ovviamente lei è per tradizione Domani sicuramente sarà spaccato Non è vero Fa accadere sempre tutti i telefoni raga No dai questa volta lo tratterà bene Perfetto raga Perfetto Detto questo raga Ci rivediamo su Instagram Crestiattino basso me Da Alice Bruno 04 Aliceattino basso Bruno 04 E per farvi vedere quando spaccherà il telefono Perché lo spaccherà la prima settimana È sempre tradizione così Io ho paura Quindi per adesso Lo vediamo Ebbene che sì Che dire Noi vi ringraziamo per aver visto il video Fino alla fine Signore e signori Questo è il video Alice ha il suo nuovo telefono E che è Salvatore Ciao Al prossimo video Ciao 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 Ciao